Ormai lo sapete, Giacomo odia gli sprechi. Lo mandano su tutte le furie. Te ne accorgi subito, diventa tutto rosso. Il problema è che se hai due figli dispettosi questa diventa una debolezza. Guardate Anna come se la spassa. Lei alza la temperatura e il padre la abbassa. Eh sì, perché contado il termostato intelligente. Basta uno smartphone per regolarla, anche quando non sei a casa. A proposito di dispetti, prendete Tommy. Non la smette più di fare avanti e indietro col suo skate perché sa che Tado abbassa i gradi quando esci e li rialza quando rientri. Povero Giacomo. Per fortuna si consola quando arriva la bolletta extra. Non ci sono dubbi, Tado conviene. Regola la temperatura in base alla tua posizione, così riduci i consumi energetici con un risparmio fino al 31% sui costi del riscaldamento. È semplice da installare, intuitivo da usare e consente il controllo remoto da app mobile. Ogni volta che torni a casa ti fa trovare la temperatura ideale, modulabile in ogni singola stanza. Grazie alla riduzione dei consumi eviti gli sprechi, quindi inquini meno e fai un favore all'ambiente. Dai Giacomo che con i soldi risparmiati puoi farti un bel weekend romantico con Emma, lontano da quelle bestie. Conestra, il futuro è oggi.